Magia e società. Riti e sopravvivenze nella tradizione popolare italiana. A cura di Girolamo Mancuso e Franco Scaglia. Prima trasmissione. Superstizione, cultura e religione. Siamo nel giugno del 1959 a Galatina in provincia di Lecce. Una equipe di studiosi guidata da Ernesto De Martino è venuta qui per registrare i vari momenti di un antico rituale magico, il tarantismo o tarantolismo pugliese. I tarantati sono affluiti dai vari paesi del Salento nella cappella di San Paolo per ringraziare il santo della guarigione ottenuta durante la cura domiciliare o per implorarlo nel caso che la cura non abbia avuto successo. Nella chiesa l'esorcismo tradizionale mediante la musica e la danza è stato proibito. Tuttavia si accenna a un motivo di tarantella ritmata dal battito delle mani. Un vecchio fa un ingresso spettacolare lanciando il caratteristico urlo delle crisi di tarantismo. Non più controllata dal tradizionale rituale magico, la crisi di tarantismo si manifesta nei suoi aspetti psicopatologici. Nella cappella di San Paolo il caos ha il sopravvento. Il tarantismo pugliese, come notava Ernesto De Martino, è in fase di disgregazione e va scomparendo come istituto magico dotato di una propria autonomia. La stessa cosa si può ripetere per molte altre forme magiche e rituali particolari che sussistono nell'Italia contemporanea. Secondo i dati recentemente riportati da un settimanale milanese, in Italia esisterebbero più di 10.000 maghi. Questa cifra si riferisce principalmente ai grossi centri urbani, mentre mancano dati attendibili relativi alla situazione nelle campagne. Bisogna anche tener conto che le persone che esercitano questa professione tendono a sottrarsi alle indagini statistiche, anche per timore di incorrere nei rigori della legge, e quindi è obiettivamente difficile ottenere un quadro completo. Come fenomeno urbano, la magia presenta aspetti notevolmente diversi rispetto alla magia popolare e tradizionale, della quale ci occuperemo principalmente nella nostra inchiesta. Nelle grandi città è infatti più sensibile l'influsso e l'apporto di fenomeni magici, di formazione più recente o di dottrine esoteriche di origine orientale. Anche a livello urbano, tuttavia, emerge un dato di fatto significativo. Contro i 1500 chiaroveggenti di Milano, ne troviamo 3000 a Roma e ben 7000 a Napoli. Anche nelle grosse città, quindi, la magia trova un terreno più fertile nel sud. Gli abruzzi sono marginalmente interessati a questo fenomeno, come pure il Friuli e altre zone alpine isolate, dove però si fa maggiormente sentire l'influsso delle forme magiche di origine nordica, celtica o germanica. Ma il mondo magico tradizionale sopravvive nelle sue forme più significative e più arcaiche, soprattutto in Lucania, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna e nelle Puglie. In alcune aree arretrate di queste regioni, il mondo magico permea tuttora l'intera vita individuale e collettiva delle popolazioni contadine e bisogna tener conto che l'economia di queste regioni è prevalentemente agricola. Secondo il censimento del 1951, nella provincia di Lecce, su una popolazione residente di 603.000 persone e una popolazione attiva di 302.105, figurano addette all'agricoltura 173.000 unità lavorative. È in questo quadro che si inserisce il fenomeno del tarantismo pugliese, che è certamente l'istituto magico meglio conosciuto tra quelli che sopravvivono tuttora nell'Italia odierna. Ma il mondo magico sopravvive in molte altre forme più o meno degradate in varie parti d'Italia, nei rituali tuttora praticati nelle campagne per guarire da malattie reali o immaginarie, per legare a sé la donna amata, per propiziare la fertilità dei campi. Sopravvive nelle feste e nelle tradizioni popolari come la festa della Madonna degli Angeli di Bisenti, nelle incanate di Pizzoli, nei vasi seminati di Ozieri, nella festa della Radica di Frosinone, nel Carnevale e nelle Befanate. Sopravvive nelle usanze funebri e nel pianto rituale lucano, calabrese, sardo, nelle credenze popolari in esseri fantastici come il Fugliettu calabrese, i Mazzamorelli di Macerata, le Gianas sarde, le Pagane del Friuli. Sopravvive nelle superstizioni, negli amuleti, nelle usanze tradizionali, il cui significato originario è ormai dimenticato, come il Tredici, le Corna, il Vischio, le Uova Pasquali. La maggior parte delle pratiche magiche alle quali abbiamo accennato si ritrovano nell'Italia meridionale, in Puglia, in Calabria, in Lucania. Perché? Lo chiediamo a Elisa Calzavara. I fenomeni magico-rituali sono fenomeni individuabili prevalentemente in culture contadine e l'Italia meridionale sembra essere la loro terra elettiva di origine e di diffusione. La magia, credenze e rituali si può intendere come una risposta culturale distintiva all'ambiente. In particolare nel mondo contemporaneo la si può intendere come una sfida all'ambiente, ambiente inteso in senso lato, altamente tecnologizzato, tendenzialmente razionale, che sotto la spinta del progresso scientifico addita comportamenti dotati di senso. La fenomenologia del magico, si può dire, si caratterizzi anch'essa dal canto suo per un complesso di atteggiamenti, temi e comportamenti problem solving, vale a dire orientati alla soluzione dei problemi. non solo di problemi, ma di bisogni, desideri, interni ed inerenti la cultura che li esprime, la quale ultima si presenta per lo più con i caratteri del sottoprivilegio, della assenza di opportunità, di chance, di incentivi validi e di alternative esistenziali, e che tuttora permane al di sotto di quella linea di decollo, di quella soglia di risveglio che consente una estesa e cosciente partecipazione alla elaborazione della propria cultura, quindi del proprio destino storico, non più subiti come valori minori e degradati rispetto alla matrice culturale alta che funge da modello. Se prendiamo due fenomeni specifici e ben studiati, come il tarantismo pugliese e il culto dei serpari a Cocullo, troviamo non solo notevoli differenziazioni, ma anche un carattere fortemente locale. Mentre i temi della fattura e della controfattura, dei filtri d'amore, degli scongiuri, eccetera, hanno caratteristiche e modalità sostanzialmente analoghe ovunque si incontrino, altri fenomeni a sfondo magico sembrano essere caratteristici di una data regione o addirittura di un determinato paese, come la cerimonia dell'asino di Bisenti, la festa della radica di Frosinone, la ndrezzata di Barano Dischia. Anche quando si tratta di tradizioni largamente diffuse, come il Carnevale o la Befana, si notano spesso differenze locali, sia per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di queste tradizioni, sia per quanto riguarda la loro data. Ad esempio, la festa dell'uva di Albano Laziale, che si celebra per San Martino, ma che è sentita dal popolo come una specie di carnevale anticipato. Questa differenziazione locale diventa più evidente quando si confrontano queste tradizioni che conservano ancora in modo più o meno palese il loro carattere magico e pagano con le festività ufficiali della Chiesa Cattolica. Come si spiegano queste differenziazioni e disuguaglianze culturali? Lo chiediamo ancora a Elisa Calzavara. In questo caso, le disuguaglianze o varietà culturali vanno riconosciute come conseguenza involontaria di una scarsa intensità di rapporti di scambio e di contatti tra gruppi dovute a difficoltà geografiche o di comunicazione. Aree isolate, periferiche hanno conservato mores e valori culturali che aree più aperte agli scambi hanno invece abbandonato. L'isolamento e l'assenza di rapporti accanto ad una diversa dinamica interna dovuta a stili di vita differenti hanno spesso generato sviluppi culturali locali notevolmente differenziati tra loro. Queste diversità culturali possono coesistere pariteticamente ovvero possono costituirsi come piani diversi in conflitto o comunque distanti da quello ufficiale. E ciò per effetto di nuove ondate culturali egemoniche e per l'interplay di azioni e reazioni culturali esterne. In alcune regioni arretrate del sud come la Lucania esiste, secondo De Martino, una vera e propria vita magica. Infatti, l'intera esistenza dell'individuo dalla nascita alla morte è accompagnata da pratiche magiche tendenti a proteggerlo da quella che De Martino chiama la potenza del negativo per indicare qualcosa di più radicale delle malattie organiche del lutto della miseria lo smarrirsi della presenza individuale cioè l'incapacità di reagire realisticamente di fronte alle difficoltà della vita quotidiana. Uno dei tratti caratteristici della bassa magia cerimoniale e lucana è la rappresentazione magica della malattia e l'arma con la quale combatterla è lo scongiuro scrive De Martino A Colobraro fra i mal di testa magici cioè bisognosi di una reintegrazione magica venne uno chiamato lo scindone che nella classificazione emozionale della medicina popolare viene collegato col sole il collegamento ha una ragione obiettiva nel fatto che questo mal di testa subentra al calar del sole dopo una giornata di fatica nei campi e accompagna chi ne è colpito per tutta la notte togliendogli sonno e riposo lo scindone di Colobraro prende a Pisticci il nome di O'Chiuve il chiodo solare e la formula per scongiurarlo è la seguente in questa formula la contaminazione tra l'elemento magico pagano e quello cattolico è evidente De Martino stesso fa notare come la contaminazione si ritrovi in moltissimi altri scongiuri e in quasi tutte le pratiche e le tradizioni popolari a sfondo magico che sopravvivono in Italia e particolarmente nel sud nella cerimonia dell'asino di Bisenti Demetra è stata sostituita con la Madonna degli Angeli e le cosiddette Madonne Nere le probabili sostituzioni di Demetra cioè le ritroviamo a Bianco a Incoronata a Seminara a Tindari a Crotone invece la Madonna sostituisce Era e le donne del luogo la invocano per ottenere la fecondità a Castelgrande la Madonna sostituisce Diana a Conversano invece a Primavera le donne portano rami di mandorlo fiorito alla Vergine lo stesso omaggio veniva recato in tempi antichi a Venere fecondatrice che aveva qui il suo tempio e del cui cinto si conservava una reliquia nel cavo di un mandorlo le donne del luogo credono ancora oggi che le mandorle biforcate siano un amuleto infallibile di fecondità ma come è possibile che questo processo di sostituzione delle figure magiche con la Madonna e i Santi avvenga in popolazioni dichiaratamente cattoliche nonostante che la Chiesa si sia sempre opposta alle pratiche pagane che rapporto c'è dunque tra magia e religione lo chiediamo a un sacerdote padre Luciano Tosti la magia è una delle componenti di ogni fatto religioso quindi anche di quello cristiano così come lo conosciamo storicamente per molti cristiani Dio è ancora folgore e tuono è ancora uno di quegli elementi del mondo alla cui schiavitù il Cristo è venuto a strapparci secondo Paolo di Tarso le verità più o meno donmatiche dominanti nella sfera dell'inconscio e spesso anche in quella del conscio sono l'inferno l'immortalità dell'anima il giudizio personale più che la resurrezione generale il giudizio ultimo il trionfo insieme al Cristo eccetera una riprova di questo può trovarsi nella concezione dell'autorità nella Chiesa i gerarchi i preti sono reverendi cioè secondo l'etimologia da trattarsi con un rispetto misto a timore perché detentori di poteri perfino minacciosi si pensi al prete che in talune condizioni è iettatore soprattutto nel meridio non sono ministri cioè servi della comunità secondo la parola evangelica la componente magica diventa quindi fattore di conservazione non solo ecclesiale ma pure sociale economica politica sull'atteggiamento della Chiesa nei confronti delle forme di magia che sopravvivono nell'Italia contadina del sud avremo occasione di ritornare in una successiva trasmissione in tutti i fatti di cui abbiamo parlato fino ad ora possiamo notare la varietà delle forme in cui il mondo magico sopravvive nelle tradizioni popolari italiane a un estremo abbiamo fenomeni del tipo della bassa magia cerimoniale lucana in cui le pratiche magiche sono realmente vissute dagli individui che vi partecipano all'altro estremo troviamo tradizioni popolari che vengono ripetute senza che ormai il loro significato magico originario sia avvertito e ancora troviamo credenze superstizioni magiche di cui si conserva il ricordo nella poesia popolare e nella favolistica molti studiosi da Branislav Malinowski a Claude Levi Strauss hanno rilevato l'ambiguità implicita nella parola sopravvivenza della quale noi stessi facciamo grande uso a questo proposito scrive Raffaele Corso grande abuso hanno fatto sociologi e folcloristi del termine sopravvivenza che prendevano nel generico significato di vecchie abitudini in contrasto col nuovo ambiente in cui affiorano dal remoto fondo originario senza considerare che in alcune tradizioni il germe è inaridito in altre è elemento sempre vivo nel primo caso quello che sopravvive nella tradizione in forma di carne o leggenda di cerimonia di credenza e di consuetudine è un avanzo che non trova nell'anima del popolo alcuna rispondenza logica ed affettiva nell'altro quello che sopravvive vive davvero tanta è la passione e tanto l'interesse che il popolo porta per quel germoglio del passato in altri termini reviviscenza è ogni tradizione racconto rito pratica magica o religiosa in cui il popolo crede nella schietta e ingenua fede reminiscenza invece è ogni tradizione che passa nella memoria senza trovare nell'animo il palpito vivificatore e tuttavia esistono molte forme intermedie per le quali è difficile dire se la sopravvivenza del mondo magico viva davvero come classificare ad esempio il malocchio e la iettatura tutti hanno sentito parlare dei folletti dei lupi mannari e degli altri esseri fantastici che popolano le fiabe di magia bambini ai quali sono raccontate queste favole ci credono ma soltanto i bambini anche su questo argomento potremo avere delle sorprese inoltre i maghi gli stregoni le fattucchiere credono realmente nei poteri magici che si vantano di possedere o sono unicamente degli impostori che sfruttano la credulità della gente Franz Boas riporta il caso di uno stregone eschimese che pur essendo cosciente che il proprio metodo per guarire le malattie era soltanto una impostura giunse sull'orlo della follia perché non riusciva a capire se uno stregone rivale era come lui un simulatore oppure possedeva realmente dei poteri magici scrive a questo proposito Marcel Moss il minimo di sincerità che si può attribuire al mago è che egli crede almeno nella magia degli altri tuttavia siamo costretti ad ammettere che in loro c'è sempre stata una parte di simulazione i fatti di magia comportano un darla a bere continuo e le illusioni sincere del mago sono sempre state in qualche misura volontarie ma non si tratta di puro e semplice inganno in generale la simulazione del mago è dello stesso ordine di quella che si riscontra negli stati neurotici e di conseguenza essa è nello stesso tempo volontaria e involontaria quando è inizialmente volontaria diventa poco a poco incosciente e finisce col produrre stati di perfetta allucinazione il mago inganna se stesso come l'attore e dimentica di recitare una parte De Martino e Gervis nei casi di tarantismo che studiarono nel Salento ritrovarono quell'analogia di cui parla Moss tra gli stati di possessione magica e quelli neurotici la fascinazione e il tarantismo debbono allora considerarsi come forme di malattia mentale del tipo dell'isteria e altri fenomeni magici possono essere spiegati come casi di psicosi collettiva oppure come sostiene Thomas Chass è il concetto stesso di malattia mentale che si deve porre in discussione i poteri magici sono reali oppure l'efficacia di talune pratiche magiche è il risultato di una simulazione e di una illusione collettiva sono tutte domande alle quali risponderemo nel corso della nostra inchiesta descrivendo quelle particolari sopravvivenze magiche appunto la fascinazione il tarantismo e altre che ce le fanno sorgere ma vediamo ancora quanto scrive Moss il mago simula perché gli si chiede di simulare perché lo si va a trovare e gli si impone di agire egli non è libero ma costretto a sostenere un ruolo tradizionale o un ruolo che soddisfi l'aspettativa del suo pubblico ne consegue che la credenza del mago e quella del pubblico non sono due cose differenti la prima è il riflesso della seconda poiché la simulazione del mago non è possibile se non in ragione della credulità pubblica vari autori tra i quali lo stesso Moss De Martino e Levi Strauss hanno sottolineato ripetutamente questa partecipazione collettiva come condizione indispensabile della magia in un certo senso la magia è efficace perché tutta la comunità crede nella sua efficacia questo è particolarmente evidente nei rituali magici collettivi che sopravvivono in forma più o meno degradata in talune tradizioni popolari come la cerimonia del bue di Loreto Aprutino ma è vero anche per il tarantismo pugliese nonostante che la cura del morso della tarantola mediante la musica e la danza almeno nella sua forma attuale sia essenzialmente una cura individuale essa deve la sua efficacia alla partecipazione collettiva di tutta la comunità che costituisce un orizzonte culturale entro il quale la crisi individuale può trovare una via di soluzione questo spiega anche perché il rituale magico perda la propria efficacia quando per ragioni di varia natura la partecipazione collettiva viene a mancare scrive De Martino nel corso della nostra indagine sul campo in una sola circostanza il tarantismo ci parve recedere al livello di vera e propria alterazione psichica senza ormai nessun apprezzabile significato di reintegrazione culturale cioè quando lo vedemmo nella cappella di San Paolo durante la celebrazione del 29 giugno tuttavia ciò che in quella circostanza l'equip osservò non era il tarantismo ma la sua disgregazione per opera dell'influenza cattolica in cappella il dispositivo simbolico che gli era proprio l'esorcismo della musica della danza e dei colori non poteva funzionare e quel che restava era la crisi appena modellata sul comportamento dell'avvelenato senza l'ordine rituale che invece operava ancora nell'esorcismo a domicilio le manifestazioni in cappella confermarono pertanto la non riducibilità del tarantismo a malattia psichica proprio perché ce lo facevano sorprendere avviato verso forme di disordine psichico solo quando per una influenza culturale estranea l'ordine del suo simbolismo mitico rituale non poteva entrare in azione il condizionamento culturale di queste forme di magia è confermato da un episodio riportato da Michele Risso un giovane recentemente immigrato in Svizzera dall'Italia meridionale aveva presentato alcuni sintomi di alterazione psichica ed era stato ricoverato in una clinica per malattie mentali e sottoposto alle terapie del caso poiché tutte le cure risultavano inefficaci i parenti dell'ammalato rimasti in Italia consultarono una magara che affermò che il giovane era stato affatturato e preparò una pozione magica che fu portata al giovane emigrato con grande sorpresa dei medici che lo avevano in cura il giovane guarì evidentemente l'emigrazione non aveva ancora rescisso i legami emotivi con la sua cultura d'origine d'altra parte i medici svizzeri cui era stato affidato non avevano esitato a diagnosticare una forma di malattia psichica nell'attuale civiltà scientifica e tecnologica il mondo magico sembra non avere più spazio né una specifica funzione sociale qual è dunque la funzione della magia nel mondo moderno lo chiediamo a Carlo Tullio Altan la magia nel mondo moderno riappare in forma anacronistica come meccanismi di difesa regrediti e cioè come riesumazione di comportamenti caratteristici di orizzonti culturali profondamente diversi nei quali quei comportamenti avevano una precisa funzione sociale riconosciuta e approvata erano cioè strumenti di difesa da quello stato che De Martino definiva ottimamente col termine di rischio della presenza timore cioè di perdersi in quanto individui psichicamente integrati di fronte a esperienze fortemente traumatizzanti in che modo è possibile sostituire la funzione protettiva esercitata dai riti magici individuali e collettivi nell'ambito della società contemporanea nella società moderna e specializzata la funzione di difesa dei riti magici individuali e collettivi è ora o dovrebbe essere esercitata dalla psicoterapia e da una serie di provvidenze sociali specificamente pensate a questo fine ma in realtà nella nostra società questo aspetto dei problemi umani è assai poco considerato ci si cura molto dello sviluppo dei sistemi di produzione e assai meno delle condizioni di una possibile armonia psichica di chi deve vivere in una simile società il risultato più vistoso di questa carenza si ha nelle manifestazioni nevrotiche nelle turbe psicosomatiche e sul piano collettivo nel ricorso ai più diversi mezzi di evasione che sono così diventati in seguito al crescere della domanda uno dei più pregiati beni di consumo l'alcol un certo tipo di musica le droghe e via dicendo fino all'esperienza domenicale degli stadi riempiti di persone ululanti che celebrano il loro cosiddetto rituale magico collettivo scaricando su arbitri e squadre avversarie la loro aggressività che non resta sempre a livello verbale in certi casi queste manifestazioni rituali e altre consimili vengono addirittura assunte quali mezzi di governo da parte di sistemi fortemente repressivi nei quali è necessario trovare uno sfogo alle tensioni che si accumulano nel gruppo noi non conosciamo esattamente i processi attraverso i quali le forme arcaiche della magia vengono recuperate a livello di una moderna società industriale per quali vie si possono tramandare dal passato lontano della storia umana fino al momento presente questi comportamenti magici ma però le analogie fra le antiche prassi magiche e le caricature attuali che ne perpetuano fra di noi l'esistenza non lasciano a mio avviso alcun dubbio sul loro carattere dal quadro generale che abbiamo cercato di tracciare si possono trarre alcuni importanti elementi attualmente il mondo magico sopravvive solo in forme disgregate e degradate tuttavia queste sopravvivenze presentano vari gradi di degradazione da questa gradualità emerge una naturale classificazione dei fenomeni magici di cui ci dovremo occupare classificazione di cui terremo conto nel suddividere gli argomenti che affronteremo nelle trasmissioni successive il mondo magico ha subito trasformazioni più o meno profonde nel corso della storia sotto l'influsso della cultura egemone e principalmente del cattolicesimo fatto questo che pone non pochi interrogativi esiste inoltre una relazione tra i fenomeni magico-religiosi e le culture prevalentemente agricole e ciò unito a ragioni storiche e geografiche ha determinato una maggiore sopravvivenza di questi fenomeni nell'Italia meridionale infine abbiamo visto che la magia è un fenomeno eminentemente sociale e che quindi trae la sua origine dall'organizzazione della società e si evolve e trasforma con essa tutti questi fatti ci aiuteranno a comprendere e a spiegare le sopravvivenze del mondo magico nelle tradizioni popolari italiane e nella nostra società almeno nei limiti in cui la magia può essere spiegata avete ascoltato magia e società riti e sopravvivenze nella tradizione popolare italiana a cura di Girolamo Mancuso e Franco Scaglia